Oltre 2 milioni e 300 mila litri di olio extravergine d'oliva irregolari, sono 183 controlli svolti dalla Guardia di Finanza e dalle CQRF con l'operazione Verum et Oleum per tutelare la produzione nazionale di olio extravergine d'oliva. I finanzieri del nucleo speciale beni e servizi e gli ispettori del Dipartimento ICQRF e del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali hanno fatto ispezioni in tutta Italia e verso i principali porti d'ingresso delle materie prime di provenienza estera. Inizialmente gli accertamenti sono partiti da un accurato esame delle banche date e delle altre informazioni disponibili e sono state poi effettuate ispezioni congiunte nei siti di produzione di ingresso delle materie prime utilizzate. Il 27,2% dei campioni prelevati è risultato irregolare per complessivi 2 milioni e 300 mila litri di olio non conformi alla normativa comunitaria e nazionale. Dei 102 campioni prelevati e sottoposti ad analisi nei laboratori dell'ICQRF, 25 sono risultati irregolari per qualità inferiore al dichiarato, cioè olio qualificato come extravergine d'oliva. In realtà dalle analisi era di qualità inferiore, cioè come olio vergine. Dieci di gli imprenditori sono stati denunciati, attualmente indagati dalle competenti procure della Repubblica sottoposti adesso ad indagini preliminari per ipotesi di reato di frode in commercio. Ben 33 le violazioni amministrative relative alla tenuta dei registri, alla compilazione della documentazione obbligatoria, al mantenimento del requisito di tracciabilità per un importo complessivo di oltre 10 milioni di euro destinati al gettito erariale. 5 le diffide ad adempiere alle disposizioni dell'autorità per la regolarizzazione e 5 sequestre amministrativi per un valore complessivo di 170 mila euro. L'operazione si inserisce nel contesto delle attività delle fiamme gialle per contrastare le frodi e la contraffazione nel settore agroalimentare a tutela della produzione nazionale.